La riforma del terzo settore dice questo, benefici vanno bene, ma per avere questi benefici devi dimostrare un senso di responsabilità, devi dimostrare trasparenza, devi dimostrare la capacità di seguire un modello etico. Quello significa essere un ente del terzo settore e acquisire dei benefici anche dal punto di vista fiscale. Ma ci sono tante norme che fanno cambiare, perché se voi leggete anche dal punto di vista legislativo la definizione di sport, la definizione di sport prima della riforma del terzo settore o era nel registro Coni, al di fuori del registro Coni, secondo la norma Ollus, lo sport era solo per soggetti svantaggiati, ma è evidente che parliamo di un'epoca storica ormai superata. E anche il concetto di svantaggiato, secondo l'accezione degli anni 90, non è più quella di oggi. L'altro giorno mi sono ritrovato una Ollus che era stata cancellata dal registro delle imprese perché cosa fa oggi dal registro Ollus? E' stata cancellata perché dà sostegno ai ragazzi che escono dall'università aiutandoli con le politiche attive per includersi nel mondo del lavoro. L'agenzia del trato ha detto, ma sono svantaggiati questi soggetti al punto di vista economico? Probabilmente negli anni 90 non c'era un problema della disoccupazione post laurea. Oggi un ragazzo che si laurea per definizione non ha svantaggio competitivo dal punto di vista sociale perché ha bisogno di includersi. Sono norme superate, sono norme ormai superate. Sono norme superate, sono norme superate, sono norme superate.